Buon compleanno. Grazie, ma l'ho già mangiato ieri sera. Oh mio Dio. Sono morta mentre dormivo. Cosa? Mi hai uccisa tu. Cosa? Ci hai messo del veleno. Ma non l'avevo mai mangiato. Così hai dovuto trovare un altro modo. E Tom si è cascato proprio a fagioli. Il capro espiatorio perfetto. E ce l'avevi a portata di mano. Che hai fatto? L'hai drogato? Sapevi che se fosse fuggito avrebbero pensato che mi avesse uccisa lui. Ma sei sempre stata tu. Trey, cos'è uno scherzo? Credi davvero che proverei ad avvelenarti con un cupcake? Ok, allora provamelo. Forza, Lori. Da un morso. Coraggio, Lori. Sei davvero pazzo. E va bene. Allora lo portò alla polizia. Loro sapranno dirci che cosa c'è dentro il tuo dolcetto. Sei solo una stupida piccola troia. Sono una pessima compagna di stanza, però non ti sembra di esagerare. Perché? Oh, non saprei. Forse perché non la smettevi di andare a letto con lui. Gregory. E lui aveva scelto te e non me. Evidentemente gli piacciono le puttane da due soldi. Cioè, hai continuato ad ammazzarmi per un idiota totale. Non è solo per questo. È anche perché sei una stupida troia. Ma quello che voglio sapere è... È come lo hai capito. Perché mi hai già uccisa prima. Allora immagino che dovrò farlo di nuovo. Che diavolo succede? No! No! Che diavolo succede lì dentro? Niente, Tri è caduta, va tutto bene Chissene, teste di cazzo E non mancate alla riunione di oggi Ci saremo Mangia puttana Non, 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 non